Elias Spaltro, dopo partita di Baiardo Genova Calcio, una partita dove sicuramente non si poteva vedere bel calcio visto il campo in condizioni veramente disastrose, però interpretata alla grande con tanta grinta è un punto prezioso. Sì, penso che abbiamo fatto una grandissima prestazione come sempre, ovviamente il campo non ha aiutato, però appunto riusciamo qua con una grande prestazione, contenti di quello che abbiamo fatto, chiaro che cerchiamo sempre di entrare in campo volendo i tre punti, però prendiamo questa prestazione come positiva e guardiamo avanti. Molto bene. Elias, domenica arriva l'Albenga, chiaramente sarete tutti molto carichi per questo impegno importantissimo. Sì, penso che alla fine comunque tutte le partite siano difficili e bisogna interpretarle tutte nel modo giusto, sarà una partita come le altre e giocheremo per i tre punti e per dimostrare appunto che possiamo dire la nostra in questo campionato. Benissimo, grazie a Elias Aspaltro, il regista del Genova Calcio.